Un blocco, pagina 223, di Pensare la storia. Fendo ancora in mano Pensare la storia di Vittorio Messori, che smonta le idee del politicamente, dello storicamente corretto, le idee che si insegnano ordinariamente ai nostri figli nella scuola. Grazie al cielo mi sono formato con questi libri di Vittorio Messori e ho imparato a diffidare sistematicamente di quello che insegnano i libri di storia, di quello che insegna lo Stato, di quello che dice la vulgata comune. I comunisti, dice Vittorio, si affannano a ripetere che ora si sentono figli della rivoluzione francese più che della rivoluzione bolscevica del 1917. Ve lo dico parlando di quel libro bellissimo di Fulton Sheen che è Comunismo e coscienza dell'Occidente, che vi suggerisco di leggere vivamente perché da una prospettiva cattolica di quel beato che fu l'arcivesco americano Fulton Sheen è stato veramente un libro profetico che nel tempo in cui ancora c'era qualche sciocco, purtroppo oggi sono aumentati questi sciocchi, si sono riprodotti, che credeva al comunismo e a tutto il socialcomunismo, al socialismo, e a tutti i loro figli bastardi che sono l'immigrazionismo, il pauperismo, l'ambientalismo, l'ecologismo e via di seguito, ebbene già lui negli anni 50 aveva capito che sono tutte delle idee malsane che vengono dal profondo dell'inferno. Ed è cosa assurda, nessuno, quindi sia uomo che movimento, può scegliersi il padre, ne può rinnegarlo, visto che le leggi genetiche e di erentarietà, nonostante quello che dicano certi che credono che il fatto che i bambini si facciano grazie all'unione tra uomo e donna, no, si fanno in provetta, si fanno, si comperano, così, no, è così. Le leggi genetiche di ereditarietà non dipengono da noi e valgono anche per i soggetti collettivi. E quindi, cari i nostri comunisti, adesso vi piace l'evoluzione francese? Beh, andiamo a vedere un pochino la vostra storia. Basta un monsieur de la Palisse per ricordare che i cromosomi del marxismo sono e non possono non essere che quelli di Marx, evidentemente, il quale è mosso innanzitutto da una polemica contro la rivoluzione francese, che ha assicurato il trionfo di quella borghesia che lui, Marx, vuole abbattere, passando alla sola rivoluzione vera, quella del proletariato. Nessuno può servire due padroni, dice il Vangelo. Bisogna scegliere o con gli illuministi borghesi del Settecento, che portarono al 1789, o il barbuto profeta di Treviri, o Treviri, come vi piace di più, cioè Marx, e il suo socio Engels con Lenin e con il suo coerede discepolo Stalin e poi con Gramsci, il nostro comunista italiano, ideologo. E la differenza è tale tra le due linee di pensiero che sarebbe come se un papa a disagio davanti alla Bibbia dicesse che vero padre del cristianesimo è in realtà Buddha o Confucio. Beh, oggi non ci siamo lontano, ma comunque sarebbe uno scandalo terribile, evidentemente, per chi se ne accorgesse. Ma ormai ci si è abituati a sentire delle cose così e così bizzarre che non ci si scandalizza più di niente. Ma ci si aggrappa a un'altra tesi, anch'essa assurda per chiunque conosca un poco le cose, eppure sostenuta non solo dai comunisti, ma anche da tutte le sinistre democratiche, i progressisti di varie tipo e i liberals. Dicono dunque tutti costoro di riconoscersi nella rivoluzione francese, ma solo nella prima fase, quella del 1789, quella dal volto umano, quella della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della democrazia. Quella e quella soltanto, non quella del 1793 con il terrore, il totalitarismo, le stragi, la ghigliottina di massa. No, no, quella non ci piace. Ebbè, ma sono la conseguenza diretta, storica e ideologica l'una dell'altra. Distinzione consolatoria quanto del tutto insostenibile. La rivoluzione è un tutt'unico, un concatenarsi di cause precise e di effetti inevitabili, e dunque del tutto coerenti e prevedibili. Li predisse, in effetti, con grande, ma in fondo non sorprendente esattezza, l'inglese Edmund Burke, con le sue riflessioni apparse già nel 1790 e scritte pochi mesi dopo l'inizio del processo insurrezionale. Non c'è una rivoluzione francese buona e una cattiva. Quegli anni non sono un self-service dove si possa scegliere quello che ci piace. Bisogna prendere o lasciare. Nella consapevolezza che certe idee, incarnate da certi uomini, non potevano portare che a certi risultati. Come diceva Georges Clemenceau, «Le tigre, l'uomo che voleva essere l'erede del giacobinismo duro, la grande rivoluzione è un blocco». O si accetta tutto o si rifiuta tutto. La storia è complessa, certo, ma ha una sua severa coerenza. Soprattutto la storia delle moderne ideologie, che oggi ormai la fanno da padrona. Così come le promesse dell'89 sboccano necessariamente nel 93, nel terrore, le premesse di Marx sboccano necessariamente in Lenin e, con diretta necessità, questi sbocca in uno Stalin, lo sterminatore di decine e decine di milioni di suoi concittadini. Nei Gulag, nello sterminio di massa, nello sterminio attraverso il lavoro. A confronto Hitler con l'Arbeit Machtfrei, il lavoro rende libero. Era un dilettante allo sbaraglio. Stalin, per molti e molti più anni, questo l'ha fatto su scala industriale.